Benvenuti o bentrovati all'interno di questo canale video. Oggi lunedì, dopo avervi svelato il libro numero 65, il quiz di metà settimana, il libro quiz di metà settimana, ecco a voi il libro quiz di questa settimana che comincia e che vi accompagnerà fino a sabato quando verrà data la soluzione del libro. Ribadisco in palio un racconto di una pagina scritta esclusivamente per voi, ma bando alle ciance, eccovi a voi la recensione numero 66, il libro quiz della settimana. Un'amnesia alla base della storia, un uomo dall'importanza fondamentale per una missione deve ricostruire la sua identità, mentre sullo sfondo c'è la conquista dello spazio e capitolo dopo capitolo si dipada la conoscenza della missilistica spaziale. C'è un gruppo di persone che vogliono distruggere l'operato di un ente spaziale e tutta la narrazione è impregnata nella missione di sventare questo attentato, se così lo si può chiamare. Questo autore sa davvero bene come dosare la suspense e tutto il successo che ha se lo merita davvero. Finita la recensione vi lascio alle vostre memorie, alle vostre capacità di lettore se riuscite a trovare questo libro un po' vecchiotto, diciamo la verità, un po' vecchiotto, questo voglio aiutarvi. Vabbè, sbottoniamoci ancora un po', è un Mondadori, un Mondadori un po' vecchiotto e spero questo vi possa aiutare a trovare la soluzione, perché immagino in tanti cerchino di capire di che si tratta ma non ci arrivino e scusatemi tanto questo è un quiz, di certo non posso farvi vincere sempre, mi piacerebbe vinceste ogni tanto, però devo mettere un po' di difficoltà nel quiz. Quindi ci sentiamo sabato per questo quiz e vi auguro buona settimana e buona quaresima visto che siamo in tempo di quaresima. Ciao ciao!